23 agosto 2020 ventunesima domenica del tempo ordinario non prevalebunt porte inferi dal vangelo secondo matteo capitolo 16 in quel tempo gesù giunto nella regione di cesarea di filippo domandò i suoi discepoli la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo risposero alcuni dicono giovanni il battista altri elia altri germia o qualcuno dei profeti disse loro ma voi chi dite che io sia rispose simon pietro tu sei il cristo il figlio del dio vivente e gesù gli disse beato sei tu simone figlio di giorno perché né carne né sangue te lo hanno rivelato ma il padre mio che nei cieli e io dico a te tu sei pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa a te darò le chiavi del regno dei cieli tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli allora ordinò i discepoli che non dire ad alcuno che gli era il cristo gesù chiede conto della propria identità spirituale ai suoi apostoli solo pietro risponde e da lui svela la sua identità nello spirito tu sei il cristo il figlio del dio vivente tu sei pietro fondamento della mia chiesa si tratta della identità spirituale che si cela sotto le spoglie della vita della carne il nome indica l'essenza della persona essa è determinata da dio e caratterizza la missione l'azione di quella persona non tanto la funzione che è anonima e ripetitiva quanto una missione specifica che quella persona è chiamata a svolgere per mandato divino si tratta della posizione davanti a dio la quale non muta e rimane in eterno essa si contrappone spesso a quella terrena per cui il volto umano può far tropeare quello che una persona è ma lo cela gli occhi sono la parte più rilevante di quella che è la disposizione dell'anima per quello che rivelano per quello che possono percepire delle cose spirituali la lampada del corpo è l'occhio se l'occhio tuo è limpido anche tutto il tuo corpo è illuminato ma se è malvaso anche il tuo corpo e nelle tenebre sta quindi attento che la luce che intendo sia tenebre ma oltre a questi lampi di luce o di scintillino infernale difficilmente conosciamo chi siamo e chi sono gli altri davanti agli occhi di dio il cuore dell'uomo è conosciuto solo da dio la sua volontà buono cattiva rimane celata per il giudizio che solo dio può dare e che a noi è precluso non giudicato il nome della persona dunque è celato segreto e viene svelato solo da dio poiché costituisce il rapporto di conoscenza e di amore di quella persona verso di lui e sarà svelato solo nella gloria alla fine dei tempi nella vita eterna la nostra vita ora è nascosta in cristo a noi è data la certezza per fede di un posto davanti a dio il quale rappresenta il grado di amore con cui siamo stati capaci di amare dio e della vocazione a cui abbiamo corrisposto ebbene anche il nome di gesù è nascosto e solo nella fede nell'apertura alla voce dello spirito il padre lo rivela solo pietro è immediatamente capace di rispondere senza pensare senza ragionare ma per la certezza evidente che sta davanti agli occhi dell'anima della presenza di dio nel figlio incarnato quella presenza spirituale dio stesso è dunque presenti a tutti ma gli occhi dell'anima non sono aperti per contemplarlo e rimane velato dalla carne e dal sangue ovvero dalle capacità limitate della ragione della percezione sensoriale perciò cristo parlava in parabole perché chi fosse pronto capisse e chi no rimanesse all'oscuro poiché una rivelazione senza accoglienza nel cuore cioè della volontà di servire ed adorare dio diventerebbe responsabilità tremenda un rifiuto di dio pieno e cosciente e le conseguenze sarebbero simili a quelle dell'angelo decaduto che rifiuto alla luce sapendo chi fosse la luce alla rivelazione del vero nome dell'identità di gesù corrisponde un conferimento della vocazione del destino di simone figlio di giorno che per il suo cuore ha meritato di essere figlio di dio poiché il padre è rivelato l'identità del figlio unigenito simone diventa roccia su cui la futura chiesa di cristo sarà fondata baluardo contro l'inferno distruttore che vorrebbe inghiottire l'umanità intera la chiesa di cristo è salvezza come una montagna rocciosa contro le potenze infernali per tutta l'umanità anche quella non credente pertanto la fede nella chiesa e della chiesa è roccia di salvezza per ogni popolo e l'inferno cerca di demolire da fuori e da dentro questo impedimento alla sua azione la storia dell'umanità va letta in questo modo poiché dio ce lo insegna ora che la chiesa sta passando il periodo peggiore della sua storia per la debolezza della fede per il tradimento dei suoi figli il mondo strumento del maligno cerca di divorarla ma la promessa di gesù rimane le potenze degli inferi non prevarranno su di essa dio vi benedica grazie a tutti